Nuova tegola sulla crescita economica della zona euro. Gli analisti prevedono una contrazione per il secondo semestre dell'anno dello 0,6%. E soprattutto il settore privato che mostra una continua contrazione. Giugno è stato il quinto mese consecutivo di calo per l'economia del vecchio continente. Le industrie rallentano la produzione con una frenata più veloce rispetto a quella del 2009.